Buonasera, benvenuti al TG Nord. Apriamo con la politica e l'avvicinarsi delle elezioni per la regione Lombardia. In realtà non corriamo da soli, ma con la nostra gente, ha dichiarato Roberto Maroni, intervenuto in diretta a Radio Padania. Da soli significa senza alleanze che snaturino la nostra visione delle cose da fare, aggiunto il segretario federale della Lega Nord, solo la Lega. Può dire che il 75% delle tasse deve rimanere sul territorio. Se c'è qualcuno, anche non della Lega, che condivide questa nostra visione, lo invito nella lista civica che farò se il Consiglio federale lo vorrà. Sempre nel corso della trasmissione, il leader del Carroccio ha ricordato che domenica prossima a Bologna, in occasione della manifestazione contro il governo Monti, la Lega consegnerà un milione di euro al comune di Bondeno, colpito dal terremoto. Soldi della Lega, ha sottolineato Maroni, al contrario di quanto fa il governo, che invece sta facendo l'esatto contrario, che toglie i soldi a chi ne ha bisogno per coprire il buco in Sicilia.